buongiorno a tutti allora in questo periodo di grande siccità in italia mi sembrava giusto e doveroso fare un appello a chi mi segue proprio voi che lo sapete questo canale parla di piante parla di giardinaggio quindi immagino che molti di voi abbiano un giardino il mio appello è fate diventare il vostro prato giallo non preoccupatevi che non sia verde come un prato all'inglese non siamo in inghilterra siamo in italia il prato all'italiana d'estate diventa giallo inevitabilmente non preoccupatevi che tanto in autunno tornerà bello verde ma in un periodo come questo ma non intendo questo mese intendo in questi anni pensare di utilizzare l'acqua potabile per bagnare il prato diciamo che non è proprio una delle idee migliori meglio risparmiare l'acqua potabile per cose un pochettino più importanti ed essenziali e quindi mio consiglio è spegnete i regatori io spero che in futuro le case non le facciano con l'impianto di irrigazione acqua potabile perché il prato verde non salverà il mondo ma è ben altro che serve per far stare bene la natura e l'ambiente con questo vi saluto ci vediamo alla prossima spegnete i regatori e ciao ciao ciao